Ho il piacere e il privilegio di poter gestire una struttura tecnica di eccellenza, formata da persone estremamente competenti, disponibili, leali, alle quali il compito di noi dirigenti è di fornire un'organizzazione il più efficiente possibile, strumenti sempre più efficaci per far sì che il servizio che forniamo ai cittadini sia sempre più adeguato alle loro aspettative e agli nostri standard di qualità.